Allora, io sono psicologa del lavoro e alcuni argomenti li avevo già trattati a psicologia del lavoro, però io sono decisamente convinta che questa giornata mi ha lasciato di più di quanto ho studiato in tutto questo tempo. Perché? Per un semplice motivo, che il sapere e il saper trasmettere sono due cose completamente diverse. Molti professori sanno, però non sanno trasmettere, perché per trasmettere ci vuole giusto la leadership, ci vuole una delle cose che comunque devi... ci vuole passione, ci vuole passione, come diceva Baldini, il nostro ospite stasera, ci vuole entusiasmo, ci vuole leadership, ci vuole generosità, ci vuole tante caratteristiche molto importanti che si apprendono stando insieme alla gente, cercando di capire le loro esperienze, cercando di valutare le loro esperienze, cercando di divertirsi insieme e ascoltando. Io consiglio a tutti di ascoltare tanto le altre persone, perché da tutti si può imparare qualcosa, e da tutti si può imparare qualcosa per migliorarsi. Quindi io ringrazio questo team, ringrazio queste persone che mi hanno dato l'opportunità di confrontare la mia esperienza con la loro. Grazie mille e vi consiglio il corso assolutamente.